Ma ora passiamo ad un altro tipo di arti. Dalla Francia col furbone abbiamo il piacere di presentarvi la più grande maestra di danza al mondo. E questa sera sarà qui una speciale lezione, ma con ancora più speciali saranno i suoi eventi. Vorrei solo darvi un piccolo consiglio prima di presentarvi i nostri attori. Per evitare di dimenticare questa bellissima scena in futuro, tiratele fuori adesso le telecamere. E allora un grosso applauso che entrano Elena, Matteo, Stefano, Gianluca, Pietro, Davide e Francesco. Un applauso. Ah, siete attenti, ho quasi anni fa. No, me staspa, lo bene così con me. Me guidi che me guidi, mi fai una grande in tre. Ma che schifo gli fatti o che schifo gli fatti? Tutto a posto? Mi sicuro me stia a sante. Allora, Teo, che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi sapere? Che è il peggio, guardare la base della France e insegnare a tutti gli oratori del mondo! Oh, ma sei meraviglioso, sei meraviglioso! Sei arrivato al posto giusto, al momento giusto! Però non sbagliato! Possiamo recuperare? Allora, Teo, queste sono le col de la danse della France, le melieux, le col de l'étoile! No, l'étoile! No, l'étoile! Etoile! Si, sono andato prima! Ma hai chiesto di compri l'étoile, le stelle, teo, le stelle! Sì, sì! Adesso rimarrai meravigliato dalle mie ballerine! La ballerine! Guarda bene avec les yeux! Eh? Gli occhi! Allora, te presento mon amour, Stéphanie! E ora, Falcullin Petronelli! E ora, la melieux, arriva direttamente dalla Russia! Ferronchi! Allora, te o si tu vuoi? Puoi metterti qua! Adesso, io! Prego! E allora, adesso ti faremo vedere qualche passo! Piede, uno, due, tre. E adesso la veste. Più su, teo, su. E ora, buon nome Stefanie. E sciapero. E ora, la morte del ciglio. Allora, teo, che cosa pensi delle mie ballerine? Eh, sono belle, sono molto belle. Molto male. Veramente io pensavo a qualcosa di più movimentale, qualcosa di più wow. E ora, la morte del ciglio.